Falla! Faccio un nome in inglese. Non so se ce riesco. Se la puoi dire in italiano traduco io e se la puoi fare in inglese. Ci sono dei guru che naturalmente portano le persone al dharma. Ci sono dei guru che naturalmente portano le persone al dharma. Però quando c'è scritto sulla Gita che praticamente non basta poi raggiungere anche la realizzazione se non si capisce bene Krishna ci si ritorna piano piano a rincarnare. Il Prabhu dice che non è sufficiente per raggiungere la realizzazione. Ma se non capiscono Krishna, dovremmo tornare in questo mondo, nella reincarnazione. Nonostante che loro hanno raggiunto livelli alti, se non capiscono è difficile capire Krishna non basta solo portare le persone al dharma. Bisogna capirlo bene, per esempio. So Prabhu is saying that it is very difficult because it is not enough to bring the people to dharma but it is also needy to understand Krishna. About Rasas. Altrimenti ci si ritorna a incarnare. Yes. About Rasas, Lilas and so. Otherwise we come back in this world. So you want... Aghida dice. Aghida dice. Volevo un po' di esplicazioni, So you want some explanation about this point of view. Cioè, la differenza di come capire Krishna è diversa. Dice, quanto è difficile capire Krishna? Come si fa a capire Krishna? Devi capire che non puoi capire, però puoi amare. Se canti Hare Krishna e leggi libri di Prabhupada nella compagnia dei devoti e se mangi solo prasadam, allora il tuo passaggio in direzione di Krishna è garantito. Non preoccuparti, ma non smettere di fare quelle cose. E se ti vuole un'altra vita, se Krishna lo vuole, sta a lui, i devoti non mettono condizioni. Chaitanya Mahaprabhu dice, io voglio essere il tuo servitore incondizionato vita dopo vita. E' molto speciale questo, un spirito di resa incondizionata e di servizio vita dopo vita. Io non che faccio questo servizio perché voglio che tu faccia questo a me. Se te non mi fai questa cosa, basta servizio. Non è una bella attitudine. Non è una bella attitudine. Giacobbandu, la prima cosa che Giacobbandu dice è che si desidera tanto di seguire a te perché sei molto ispirato per Giacobbandu. e il problema è che ci vorrebbe sempre un guru come lui e anche altri magari per tenerci così uniti come stasera qua perché quando siamo abbandonati a noi stessi poi ognuno si apparta, fa un appartezio. Si sente che con un maestro spirituale come voi è facile stare insieme, fare programmi e fare servizio. Allora diventa difficile anche il Sadhu Sangha. Ma quando non sei qui o quando qualcuno come voi non è qui, è molto difficile anche fare il Sadhu Sangha. Cosa ci consiglia magari? Vediamo. Quindi se puoi dare a noi qualche consiglio su questo? Cioè a proposito di migliorare il Sadhu Sangha. Si, si. È molto facile. È molto facile. Si. Ascolta la classe? At least 2-3 ore al giorno. Ascolta la classe, ascolta classi almeno per 3 ore al giorno. E invita gente, anche loro ad ascoltare insieme a te. Se qualcuno viene, benissimo, meraviglioso. Se non arriva nessuno, in ogni caso ci sei te che ascolti. Quindi in quella maniera te ottieni l'associazione. E se qualcuno viene ad ascoltare la classe, puoi fermare la riproduzione e spieghi alle persone chi è lo speaker, chi è quello che parla, e poi dargli qualche altra spiegazione. Ma molto ci può unire il canto, anche il canto... Il chirtan è molto dolce. E anche il chirtan va bene per svegliarsi. Non è possibile addormentarsi quando uno fa la chirtan. No. Grazie. Arrivo, arrivo. Grazie. Grazie. Quali altre domande hai? Ci sono altre domande? Io ho una domanda, se è possibile... Questa domanda è se puoi chiedere fare una precisazione sulla storia che ti c'era prima. Vai. No, se poter precisare... Dai, cioè... Eh, su quanto parlava di Holi, no? Allora, Prabhu is asking... When you were speaking about Holi, the holy feast on day... La festa che tu diciessi era uno yogurt... Yes, the feast when they threw the yogurt, the colors... Eh, perchè non chiamavano il festival dell'amore se il giorno prima avevano picciato i copa, intomma... Prabhu is asking... Why they call it the... Why you have called it the festival of love... If the previous day they did beat the... The coward boys... Because the coward boys accepted defeat. Perché il... I pastorelli hanno accettato la sconfitta. E allora fecero il festival. Dice, qualche volta quelli che si vogliono bene hanno dei disaccordi. Però li devono ricomporre, insomma, li devono mettere a posto. Quindi è il... Come si può dire... Il sacro aggiustamento del conflitto. E' un festival tanto gioioso. E questa storia è stata rivelata... E questa storia è stata rivelata... E qui in modo che se uno gli venisse l'idea di mettere in questione, in discussione se Radarani è o non è il supremo, leggete questa storia. La spiritualità significa... La spiritualità significa... Proteggere il femminile. E capire che la Divina Misericordia viene attraverso di lei. E questa è la Tattva, Radha Tattva. Questo si chiama Radha Tattva. Questa è la verità. La verità di Radarani. C'è qualche altra domanda? C'è qualche altra domanda? C'è qualche altra domanda? Sì. No . How we can avoid to criticize others? Mm? How we can avoid to criticize other people, evovamente? By speaking of their good qualities. Parlando delle buone qualità. Questa era il sistema di Bhaktisiddhanta Sarasvati Taku. se qualcuno litigava con un altro o lo criticava gli chiedeva per favore mi puoi anche dire le belle qualità che ha questa persona in questo modo loro capivano il loro errore se parlate delle belle cose non avete tempo per parlare delle cose brutte se parlate delle brutture degli altri anche se queste cose brutte sono vere quindi anche se le cose brutte delle quali volete parlare sono vere queste cose vi entrano nella mente e attraverso la mente entrano dentro di loro entrano nell'inconscio e dopo l'inconscio ti porta verso quell'energia quindi fa peggiorare il livello di coscienza Tavui dice so the consciousness level goes lower yes si si C'è qualche altra domanda? Dato che la coscienza di Krishna è l'amore, di come cercare di sviluppare tra i miei modi queste relazioni di amore. Prabhu is asking, according to your experience, if Krishna consciousness means to develop love, what you can suggest to us to do this, for developing love between devotees. Servirsi l'uno con l'altro, non possiamo servire Krishna direttamente, possiamo servire i suoi devoti e quando noi serviamo i suoi devoti, Krishna è felicissimo, ma i devoti non sono tanto felici. E ti dicono, servi Krishna, non me. Ma il devotee dice, no, io ti devo servire, perché tu stai servendo Krishna. E allora il devoto dice, vabbè, serviamo Krishna insieme. Se tu dai dei soldi a un devoto, cosa ci fa un devoto? Lui li spende per Krishna. Non è che ti dice, oh grazie, ora così smetto di lavorare. No, no. No. Prabhupada da noi ha preso tanti soldi. E l'ha impiegati tutti nella sua missione d'amore. Purimahaj non ha preso nemmeno un centesimo per sé. Ha dato tutto per fare tanti templi, libri, tutto quanto. Come in India, quando c'è un grande festival. Voi l'avete visto. Quanto prasata distribuiscono. Da dove lo pigliano tutto il denaro per fare queste grandi distribuzioni di prasata? Siccome loro hanno grande cuore, loro danno tutto a tutti. E allora a questi Krishna dà ancora di più. L'uso del sannyasi sarebbe che non tiene del cibo pronto per il giorno dopo. Dice, oh prendiamo tutto questo cibo, mettiamolo insieme, lo metto in un contenitore, lo metto da parte, così domani domani l'altro, domani l'altro ancora ho da mangiare. Tu credi in Krishna e allora inviti tutti quanti. La reale vita spirituale è un reale sacrificio. È come quando uno ha dei bambini. I genitori fanno tantissimi sacrifici per i figli. Giusto? Perché li amano. Quindi noi amiamo i Vaishnavas. E quindi dobbiamo fare tanti sacrifici per loro.